Ieri altri tre giornalisti palestinesi sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani a Gaza, tra gli altri anche il figlio maggiore del corrispondente di Al Jazeera, che aveva avuto la famiglia sterminata in un bombardamento. Il numero dei giornalisti uccisi a Gaza ha superato ormai 60. Ma immaginate che cosa succederebbe se 60 giornalisti occidentali fossero uccisi durante un combattimento, una guerra, un bombardamento? Crollerebbe il mondo, no? Questo mi fa riflettere su questa politica del doppio standard, che ormai è evidente. Evidentemente i giornalisti palestinesi valgono di meno dei giornalisti occidentali, evidentemente i bambini palestinesi, i civili palestinesi, valgono di meno dei bambini occidentali. Quando ero in Israele tempo fa, la madre di uno degli ostaggi israeliani, che è ancora ostaggio di Hamas, mi ha detto una frase che mi ha colpito. E mi ha detto che fino a quando noi non convinceremo a considerare un bambino palestinese allo stesso modo di un bambino israeliano, questo conflitto non avrà mai fine.